Una prova decisamente scarsa di fronte ai loro tifosi Ho visto una squadra scomposta, poco determinata, nervosa Davvero una brutta prova Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo Al commento tecnico c'era Luca Marcheggiani, che ringrazio Grazie, un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa Grazie 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 Grazie